Signore e signori, l'immaginazione diventa realtà e niente è come sembra. America, se non andiamo via. A noi ci servono solo i documenti. Con 300 lire a testo ci fanno meglio di quelli originali. Io con 300 lire mi scopo le miglior mignotte di Roma per anno. Per te è facile, eh? Perché sei normale. Noi senza circose ma sono una banda dei vostri! Ma non ci ha separato nessuno. Manco la tua era. Levati! Dammi un bacio e me nevo. Oh! Faci proprio da schifo! Tu sei speciale, ragazzino. Il mio non è un dono. È una maledizione. Ma perché non tunisci a noi? Ti faccio diventare una guerrigliera. Alla riuscola! Alla riuscola! Frans! Sei convinto che esistono scherzi della natura dotati di poteri speciali. Drei, Männer! E' un piccolo mietchino. Rettiamo il terreno in la prossima strada. Pronti? No! Il piano è questo. Sartiamo sul treno. Oviamo e se ne andiamo. Do sartiamo? Ci sto. Pure io. Il piano del cazzo. Nazzisti! Ammazza come siete cattivi! Doviamo fare la guerra? Basta. Eh? 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 Il piano del cazzo.